Loro sono Aurora e Luisa E fino a qua è facile, vai Con Jan Ekox e tre prezzi, ho scritto Ling E Anthony Padilla, Connor Kenway da Smosh Quello, eh? Ci atteniamo al testo Aspetta, perché non è ripreso a bene Basta, ci siamo, dai Grazie a tutti Fate l'applauso, fate l'applauso